ho già fatto un video, devo fare un video alla papera da vicino sperando che non arrivo così dall'acqua papera? qui, apra un po' di paparello sapevo pasturile da mangiare ehi, non metti i piedi nell'acqua, è fredda eh? sono impermeabili ma no, è fredda l'acqua, non ti conviene eh, a parte di questa vista, io che c'è, non mi piace e scia eh, a me ne chiamo pastogodi pastogodi, per chi dode no, pure giudicino, la prima volta che mi metti a Terenzo, va ma che significa Terenzo? ma che significa Terenzo? vado a dove vado a noi, a noi che parlo, ci c'è niente